Allevatore da quando? Da sempre Siamo noti proprio qui? Sì, a Piano E questo è stato sempre il suo appezzamento di terreno? Sì, sì, sì Dal 1940 la mia famiglia abbiamo questa zona Però mi dicevano che suo papà è agricoltore invece Agricoltore e allevatore, lui con le mucche di più Io ho la passione delle pecore Delle pecore Ci parla un po' delle pecore, è così difficile fare allevatore delle pecore? No Se uno ci nasce non è difficile Se uno lo fa con passione, se uno una cosa la fa che non gli piace Diventa tutto difficile, anche fare lo scrivano diventa difficile Secondo me Ma lei è andata anche a scuola, no? Sì, certo E faceva scuola e pecore? Sì Sono tanti qui a Piano degli Albanesi i ragazzi che sono dedicati all'allevamento? No, siamo rimasti in 5-6 aziende con pecore E poi alcuni con le mucche Siamo qui per il cannolo di Piano degli Albanesi Il famoso cannolo Ma perché è così buono? Da cosa deriva? Deriva da tante cose La buccia è fatta in modo diverso dalle altre parti La ricotta Che è il prodotto principale Fatta con il latte delle pecore, dei pascoli che mangiano Lo stato brado Non mangiano In stalla, mangiano fuori Tutte le erbe che nascono spontanei fuori Quindi la filiera comincia qui? Certo, comincia la mattina all'alba Per arrivare al cannolo E la giornata, come avviene? La mattina a che ora si alza? Dipende, dipende dal periodo, le 5, le 5 e mezza, non più tardi Le abiti al centro? Sì E quindi arriva qui? E poi vengo a mungere Da solo? Da solo Vengo a mungere Poi sistemo il latte Mi esco le pecore Insomma la giornata è sempre quella Quindi tutta la giornata? Tutta la giornata Poi arriva a casa e si fa la doccia Perché questo odore di pecore Certo Piace però Mi piace Alle donne piace? No scherziamo Comunque E poi la sera facciamo la vita normale di tutti Ecco Ma di giorno siamo dedicati a loro Voi avete quante pecore? Saranno intorno ai 160 Più o meno Se scomparisse una pecora Lei come lo capirebbe? Non lo so Se un padre scompare un figlio Ma 160 Eh ma C'è chi ne ha due figli e chi ne ha 160 Lei li riconoscerebbe tutti? Certo In mezzo a 10.000 Ma le pecore riconoscono lei? Certo Se le chiamo a lei non rispondono Se le chiamo io mi vengono dietro Cioè Tutti in una volta Ma lei non è che le conosce a uno a uno Come non le conoscono a uno? Certo che le conosciamo a uno Genologia Nonna, madre, figlia Tutte le conosciamo Ci parli ora della sicurezza, dell'igienicità Ecco, della sanità Eccetera Perché una volta ecco c'era il problema della brucellosi Questo è un problema che c'è sempre No, no Dagli anni 90 siamo risanati diciamo a livello sanitario Siamo in regola Come brucellosi non abbiamo mai I controlli come vengono? I controlli avvengono annualmente Prima all'inizio erano semestrali Poi annualmente Vengono a prelevare il sangue degli animali Lo analizzano e poi ci danno il risultato Però siamo aziende indenni dagli anni 90 Quindi voi li tenete isolati i vostri dagli altri? Certo, certo Ognuno abbiamo il nostro territorio di Pascolo La nostra mannera, come si chiama Ci parli un po' del latte Ecco, perché questo è il latte dei cannoli, no? Sì Il latte viene munto a mano Rigorosamente, almeno da parte mia Come è stata sempre l'arte millenaria di mungere a mano Mai ha pensato di meccanizzarlo? No, non mi ispira la cosa Avrebbe guadagnato di più? Chi lo sa Chi lo sa Non è tutto il discorso Anche il contatto fisico con l'animale Perché munendo a mano Tu te ne accorgi se c'è un animale Che magari ha la febbre, il latte Guasto Certo, toccando la mamella Se è calda, se è fredda Se non risponde, diciamo Per come dovrebbe essere Ma per fare questo lavoro bisogna imparare, no? Si apprende da piccoli Da piccoli Ci sono ragazzi che vogliono farlo? No, non più Non più Quindi quando lei finirà Perché lei è sposato, no? Ha figli? No Però Quando finirò io Che sono forse il più giovane Di quei 5-6 pastori che siamo rimasti a piano E quindi partiamo allora C'è nessun altro che lo fa E finita la pastore E partiamo dal Pascole Questi sono i pascoli meravigliosi Questi sono i pascoli Montani Rigorosamente montani Con lago sotto Con lago sotto L'aria è quella che è I pascoli sono incontaminati Perché non abbiamo zone seminative Non abbiamo Non ci sono pesticidi Non c'è niente qua Niente? Qua siamo montagna Mezzo alle pietre Quindi quello che nasce Quello che la terra dà Loro si mangiano Questo è un lavoro È un lavoro che dura 12 mesi 12 mesi Forse anche qualche giorno in più Allora Se lei mangia su un cannolo Capirebbe se il latte è suo No? Dopo la lavorazione manca a parlarne Però Diciamo Se la ricotta è buona Si capisce E se la ricotta è tutta buona Sì Sì Fra di voi Allevatori Siete solidali Se uno ha bisogno Si può rivolgere all'altro Siete amici O c'è concorrenza? C'è la concorrenza E c'è l'amicizia Ci sono entrambe le cose Lei lo sa che dicono In tanti posti Che il cannolo è di piana Gli albanesi Invece non è di piana Gli albanesi Spacciano Ma il cannolo è siciliano Secondo me il cannolo è siciliano Solo che a piana Si è fatto forse migliore Rispetto ad altre zone Magari Si è mantenuta chissà Qualche tradizione più antica O qualche cosa che abbiamo portato Noi albanesi Chi lo sa Perché voi siete arberesci Sì Noi siamo arberesci Ecco Lo sapete Vi stiamo mandando alcune immagini Di quando siamo andati a Tirana E a Balona E appunto A trovare gli arberesci Allora Volevo dirle questo Quanti litri fate? In base al periodo In base Può variare Dai 50 Ai 150 litri Grazie Giuseppe Si è messo a piovere Quindi ci andiamo a riparare anche noi Ok grazie Ciao a tutti Ciao a tutti Noi a piovii Grazie a tutti.